Colpo di mercato last minute per la Nissa, che è poche ore prima del Gong, è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di un giovane e talentuoso attaccante uruguayano, anticipando la concorrenza di tante altre società. Si tratta di Guilhermo Rizzi-Rozada, classe 2000, proveniente dall'Audax Cervinara, squadra di eccellenza campana. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili del River Plate, società tra le più prestigiose del calcio sudamericano, vincitrice della Coppa Libertadores del Mondiale per Club, ed ha anche giocato in prima squadra per poi vestire la maglia del Tabar FC, società professionistica, prima di approdare in Italia. Guilhermo si aggregherà nelle prossime ore alla squadra biancoscudata e potrà essere convocato da mister Bognanni per la trasferta di Sciacca. La Nissa dunque chiude nel migliore dei modi la finestra di mercato con due colpi, quello del ritorno di Omar Diop, il difensore senegalese, e appunto di Guilhermo Rizzi, che vanno a rinforzare l'organico a disposizione di Bognanni per cercare di centrare l'obiettivo dei play-off. La vetta per il momento è lontana, il Canicati marcia a passo spedito, ma la possibilità di un finale di stagione brillante per i biancoscudati all'altezza del blasone della società nissena ci sono tutte.